Siamo qui con Mola della squadra dei Dreamers, brutta sconfitta per 15 a 4, cosa ne pensi della partita? Abbiamo iniziato malissimo, abbiamo preso un parziale 4 a 0 in 5 minuti che ci ha stroncato le gambe giustamente, loro comunque sicuramente hanno meritato di vincere anche per il parziale, noi siamo ancora una squadra che deve trovare i meccanismi basilari, quando riusciremo a giocare tranquilli a pallone, gireremo la palla, magari potremo fare qualcosa in più. Comunque sei stato eletto uomo team, bella prestazione la tua, con un assist e un gol. È bella la prestazione quando si vince, così rimane mediocre comunque. Grazie Mola.